You think you know me? Buongiorno e buonasera ragazzi, benvenuti nel secondo video di cui vi parlavo con tutti i ringraziamenti. Di conseguenza ci sono sempre Pala, Dario, Sara. Ciao! E allora, da dove iniziare? Bene, iniziare un attimo dalla questione un po' più delicata per poi andare un po' più in caciara. Allora, chi era in live sa già di questa cosa. Come sapete, noi non abbiamo mai fatto proposte dopo quel fatto di Reddit, non abbiamo mai spinto o chiesto qualcosa alla community. Però, per una volta, ci è sembrato il caso. Io un po' mi sento in dovere, io ho la mia storia, chi la sa, la sa, bene. Gli altri è piaciuto il gesto e quindi l'abbiamo deciso di promuovere. Ovvero, se andate nel Discord ufficiale, vi lascerò l'invito spinnato nel primo commento. E andate nel canale Suggestion, qui, su supporto. So che vedete piccolo, purtroppo non si può zoomare Discord. C'è questo post, fatto da Nightwolf, che stranamente porta il mio nome. Eh, noi Davidi, che culo. Senza che vi parlo di quello che c'è scritto, preferirei che lo leggete voi, con la vostra sensibilità alla cosa. Decidiate se lasciare o no una semplice interaction qui sotto. Noi l'abbiamo promosso in live e, devo dire, sono stati bravissimi tutti quelli che erano presenti in live e tutte le legioni presenti. Su tutte si sono mosse molto attivamente, no, si sono mosse in realtà tutte molto attivamente. E il post, infatti, ha ricevuto un bel po' di reaction. Ma so che qui su YouTube abbiamo una risonanza un po' maggiore, cioè un po' tanto maggiore. Se in live vediamo 150, 200, qui iscritti siete 3.000 e qualcosa, 3.500 quasi, almeno 1.600, 1.700 li vedo nei video. Spero di arrivare qui almeno a vedere un 500 reaction, perché è una cosa molto importante, che tratta tematiche un po' delicate, delle quali non vorrei parlare, però non so. Di questo, ragazzi, c'è questa parte sul Discord, di quale vi lascerò nel primo commento, punto 1, l'invito. Punto 2, invece, vi lascerò il link, vedete qui, copia il link del messaggio, direttamente a questo post. Così, chi è già dentro il server ufficiale di Senseia, basta che prema sul secondo e si troverà direttamente proiettato qui. Se vi va, lasciate un'interaction. Per me è una cosa più che doverosa, ma è una cosa che ovviamente è personale. Stessa cosa si potrebbe applicare, per chi ci ha fatto caso nello scorso video che abbiamo fatto uscire mercoledì, c'è anche su Facebook, sotto il video di Dettol. Abbiamo fatto la stessa cosa, però qui scrivendo noi come pagina a nome di questo ragazzo, che si chiama Davide. Se volete, andate a lasciare una reaction pure qui. Siamo a 67. La cosa su cui citerei di più, però, è il Discord, perché comunque là ci sono i moderatori. C'è un developer, chiamiamolo così, che da un occhio, quindi un po' più di peso, ce l'ha. Non ho idea di quanto guardino la pagina Facebook, detto sinceramente. Per il resto, passiamo a cose un po' più tranquille. Mi metto pure in pus, che intanto dobbiamo solo charlare. Allora, ragazzi, grazie mille per tutto il supporto che ci avete dato dei tornei. Io non pensavo, detto sinceramente, che saremmo riusciti mai a organizzare un torneo a 64 persone. Siamo riusciti a fare 60 persone, che sono state tutte quante iscritte correttamente, e si sono presentate tutte. Non ci avrei mai scommesso un euro, sinceramente, che noi, soprattutto, riuscissimo a gestire tutta questa organizzazione. E infatti, dobbiamo ringraziare tantissimo alcuni membri nostri che passano un po' più in sordina, come Legolas, Jackie, che ci hanno dato una mano, che Ersi, che ci hanno dato una mano a prendere la gente quando andava invitata nel torneo, perché alcuni non si erano iscritti al nostro Discord per recuperarli le peggio cose. Però anche le varie legioni, perché soprattutto i God, che avevano tanti membri, i 404, che avevano tanti membri, gli Omega, tra parentesi, complimenti, per chi non lo sapesse, Ste ha vinto per l'ennesima volta il torneo, Ste lascia un po' qualcosa pure agli altri, però il primo vincitore dei tablet di Huawei Italia è Omega Ste, complimenti a lui. Il secondo, Zelgadis, tra parentesi, lo nomino soprattutto perché spero si sia già rinominato Evil Zelgadis, come voleva fare, perché è il primo Cristiano a riuscire a usare Evie Saga, quindi complimenti a lui, è arrivato in finale grazie a Evie Saga, quindi complimentoni a lui. Tutte le partite sono uscite molto divertenti, sono uscite tante comp, per chi pensava che vincesse la Whale, non ha vinto la Whale, anzi, quelli che hanno reso meglio paradossalmente sono stati i Free2Play, che ha fatto dei miracoli incredibili, stava quasi per battere la Whale, perché sfortunato lui l'ha beccato al primo turno del torneo della domenica. Sono stati tantissimi personaggi a essere definiti MVP di vari tornei, quello dei Free2Play per esempio è stato Marin, ma io Marin non la vedevo giocare da 15-18, invece ha dimostrato che aveva ragione Dario, riesce ancora a curare sui 60k, siamo rimasti tutti un po' così. Però penso di poter dire, siamo stati bravi a renderlo abbastanza equilibrato, però fatemi sapere voi ovviamente se lo ritenete tale, perché da fuori ovviamente si dovrebbe giudicare un torneo, non da dentro. Per il resto, i ringraziamenti più doverosi, penso vanno ai miei colleghi qui presenti, perché tipo ci siamo uccisi di live quella settimana, abbiamo fatto più ore in quella settimana che in tutta la nostra vita, credo. Quindi grazie soprattutto anche a voi, e grazie soprattutto a chi anche ci ha seguito per tutte quelle ore, perché le live sono arrivate quasi a 5 ore e c'eravate ancora, quindi grazie mille del sostegno a tutti quanti. Ora lascio un attimo la parola per parlare invece strettamente di Huawei a qualcuno dei miei colleghi, non so chi si sarà scelto. Prego. Allora, innanzitutto ringraziamo Huawei che ha sponsorizzato il torneo e che sponsorizzerà anche il torneo delle Mega 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 Ways, anche se in realtà si chiama Invitation per essere più delicati, dando comunque ottimi premi e sostenendo la community. Ricordiamo che c'è sempre il cashback per ogni volta che dovete acquistare, di solito è il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Poi abbiamo anche un'ottima promozione questo mese, per cui sui vari scaglioni di spesa ci saranno ulteriori cashback, finito il mese, dai 100 euro in su. E ringraziamoli per averci sostenuto, in fondo sono nostri sponsor da tantissimo tempo, vi rimandiamo anche ai video se avete bisogno d'aiuto per installare l'app su Android, e quindi cellulare barra emulatore. E niente, oltre a questo appunto, grazie ancora per sostenerci in questi tornei, più siamo, più account avremo, più riusciremo a fare tornei simili con buoni premi per voi. Spero anche per me se quelli che gli Invitation si dimostrano P.I. e mi regamo lo sto benedetto tablet, visto che tanto lo useranno come sotto bicchiere. Voi non sapete che tentativi di corruzione ha fatto Sara durante i tornei su chi vinceva di doveva regalare il tablet. E' da dire che si sono offerti e poi hanno tirato indietro le mani che manco Giuda o il 30 denari, sono tre melli, guarda. E proprio a proposito di questo, finendo con i ringraziamenti, volevo ringraziare Grey, che come al solito passa durante tutte le live quando può, Gianluca, che nonostante avesse finito da poco di fare la semifinale in quel caso del mondiale, quindi contro gli americani, è stato con noi, ha commentato la finale, è stato molto gentile e grazie a tutti quelli che sono passati tipo i gol sent a cacca a farci vedere la conquest di altri server e anche, soprattutto, a chi ha vinto i vari tornei ha voluto fare una mini intervista per dire quello che gli è parso se si è divertito, se... tutto quanto. La prestazione di sé è stata divertentissima nella live perché è veramente una persona umidissima, Zelgadis invece la buttava molto più in cacciara ed è stato molto divertente. Mi fa piacere aver visto tante legioni e spero di poter replicare una cosa del genere con ancora più legioni di vari server, certo è che veramente abbiamo coperto all'1, che eravamo noi, c'era qualcuno della nostra legione, al 32, che è... 1-0 noi. È vero, siamo 1-0 noi, effettivamente, fino al 32, quindi bene o male eravamo veramente tutti. Sono rimasto colpito dalla partecipazione, dal coraggio del solito 2Tab, io continuerò a citarlo perché quel ragazzo è un genio ed è un mito, perché, ragazzi, un livello 55 che fa il torneo free-to-play si presenta sempre, gioca, è bravo proprio a giocare. Queste sono le cose che un po' tutti abbiamo voluto vedere. Gray ha fatto un bel discorso durante la prima live della domenica, durante la prima ora della live della domenica, quando c'è stato, proprio sulle comp e i comportamenti di approccio al gioco. Sono rimasto colpito anche dalla vostra bravura nella chat nel farvi complimenti a vicenda, nessuno ha cercato di creare flame, quando si sono creati dei problemi perché il gioco ha un bug clamoroso nel torneo, cioè se sorrendate dalla vittoria all'altro, tutti con un fair play totale, disponibilità a rigiocarsi la partita, quindi complimenti veramente a tutti quanti voi e soprattutto a chi ha creato delle legioni con persone di questo genere perché penso che questo sia il futuro del gioco perché altrimenti la vediamo grigia. Se invece c'era più gente così disposta a divertirsi e a essere fair, non mi viene il termine italiano in questo momento, penso che ci sarà da divertirsi parecchio. Corretti? Corretti. Non mi veniva. E talmente tanto per me in italiano non esiste questa parola che non mi viene, non mi sovviene. Per concludere questo video volevo parlare di un ottimo di una cosa, so che forse a molti non interesserà, però per me era una cosa pure, mi ha fatto anche piacere essere citato lì come Zodiac si è citato a tutti quanti, vi rimanderei a un video che ha fatto Barde perché purtroppo, e lo capisco benissimo, ma veramente benissimo perché dopo aver fatto questo evento io volevo morire, non volevo stacca tutto, non ce la faccio più, a vedere pure Sensei, cioè proprio ti sfibrano queste cose. Lui lo fa da tanti anni, anche su Tsubasa, lo fa anche su Sensei, si è sempre rinominato, come stesso dice lui, Barde il Nabbo, ma alla fine di Nabbo ce l'ha poco e niente. In ogni caso, non lo so, cioè per me quel video andrebbe visto da chiunque, anche se non vi interessa dei giochi di presenza, cioè Sensei o in questo caso Tsubasa, ma fa un discorso, fa dei discorsi di un'intelligenza e di una profondità che fanno capire, forse, cioè, è quello che penso anch'io, ma molte volte non riuscirò mai a esprimere, quanta fatica c'è dietro fare questa cosa, quanto rompi palle doversi piare degli insulti senza senso da gente che, vabbè, parla perché deve parlare e quanto tempo porta via la propria vita normale. Quindi, io volevo fare i complimenti a Barde per la qualità e delle parole espresse in quel video, mi dispiace che lascia, però da un lato no, perché lo capisco e le motivazioni che ha dato sono più che corrette, cioè, famiglia prima di tutto, la vita prima di tutto, e soprattutto concludere con il fatto che, però spero, lascia aperto il canale perché chiunque voglia andarsi a rivedere quei video, anche un po' vecchi, pure per farsi una risata, brutto non è, secondo me, però questa è una cosa a mio personale, Bardino, e complimenti ancora per il video, spero, cioè, capisco la tua scelta e ti appoggio in pieno con tutto quello che hai detto, complimenti per tutto quello che hai fatto, comunque. Magari è solo una pausa? Eh, oggi ha rifatto un video dove rimarcava che era un saluto definitivo con possibilità di fare una comparsata ogni tanto, che secondo me è la cosa più intelligente. Definitivo, non esiste finché... Io pure spero di no, però le sue scelte le capisco pieno e lo ringrazio comunque per le parole spese per noi durante il suo video. Ragazzi, dopo questo sermone non so più che altro dirvi perché veramente è solo un grazie generale questo qui a Huawei, a voi, alla community, a tutti quelli che si sono sbattuti dietro questo. ovviamente citiamo per ultimo, non per importanza, quello che ha per reso possibile tutto quanto perché se Huawei ci ha dato le disponibilità, Ref è quello che effettivamente ci tiene sempre in piedi i contatti e tutto quanto. Quindi, complimentoni a Ref FFA che è la rappresentante di Huawei per l'Italia grazie a tutti quanti e noi ci vediamo ad un prossimo video e al prossimo torneo soprattutto che, come ha detto Sara, tra poco io avrevo chiamato VIP però va bene ci sta Invitation, Balene, come mi pare. Pronto ci sono dentro tutti sarà come vedere un Jamir però con da un lato stranieri e da un lato italiani che per pigrizia a volte o semplicemente per mancanza di tempo non partecipano al Jamir. Era già quasi perché ce ne erano tanti di italiani. Eh però ci sono quei pochi italiani che tipo nel torneo tipo Ste non riesce a fare il Rush Jamir forse per tempo non lo so però il Jamir non lo fa eppure sta lì è sempre lì quindi sono curiosissimo di vederlo lì oppure la rivincita di Gianluca e di Grey che hanno dichiarato battaglia il ritorno di Fakir dopo il mese di pausa ci sono tante cose che saranno divertenti da vedere sperando che non succeda nulla e che tutti ci possano essere ovviamente perché poi come dicevo prima la vita Peppino questo è dedicato a te ho scoperto che vedete i nostri video so cosa ti è accaduto buona fortuna moglie si parla di moglie grazie a tutti grazie a tutti ragazzi buona serata ciao 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 viva Tavo ciao 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 Ciao.